benvenuti alla nostra villa dello scultore qui siamo a marina di carrara circa un chilometro dal mare considerate che la nostra villa è stata realizzata completamente di sana pianta quindi questo era un terreno con un vecchio rudere che è stato demolito ed è stata edificata questa bellissima villa vedrete all'interno delle riprese che la proprietà ha utilizzato vari marmi essendo a marina di carrara quindi era fondamentale utilizzare la pietra locale e anche all'interno del progetto sono stati sfruttati gli spazi in maniera molto personalizzata quindi è un immobile come diciamo spesso noi non per tutti quindi deve piacere questa tipologia di distribuzione noi qui abbiamo uno spazio esterno quindi un giardino con piscina e questa zona chiamiamola patio dove si può pranzare o cenare la sera con gli amici anche sul retro dove c'è l'ingresso principale abbiamo un altro patio che è molto bello anche quello che fa l'ingresso e vedrete nelle riprese si entra all'interno del salone che è tutto open space con la cucina vista e ha una bellissima scala in marmo bianco che collega al piano superiore la parte del piano terra abbiamo oltre alla zona giorno e angolo cottura una camera matrimoniale con il suo bagno padronale un'altra camera che non è proprio matrimoniale una camera doppia con un bagno e un piccolo studio si sale al piano superiore dove si arriva su questo ballatoio molto bello che è aperto sul soggiorno sottostante e abbiamo una master bedroom quindi una padronale anche quella con il suo bagno e una stanza armadi considerate che esternamente la proprietà un giardino tutto su un livello la piscina è stata messa esterna ma si può tranquillamente anche se vi piace più fare una piscina interrata si può fare senza problemi le finiture interne vedrete nelle video i marmi sono stati utilizzati varie tipologie e soprattutto anche le finiture sia della parte infissi sia della parte esterna e del tetto sono utilizzati materiali di alto livello considerate che un immobile ideale per una famiglia numerosa ma che ha piacere anche della convivialità quindi si possono usare gli spazi esterni e soprattutto all'interno le zone giorno sono molto ampie vi aspettiamo per venire a visitare la nostra villa dello scultore grazie a tutti